Prima di lunedì, tu hai contribuito alla stesora di questa storia, quindi ti va di raccontare come è nata? Beh sì, in realtà è nata da un corto, avevamo scritto un cortometraggio che andava tutta in un'altra direzione, però la storia, il succo era quello di ragazzi che per un incidente si trovavano in una situazione più grande di loro. Poi questo corto, leggendolo e rileggendolo, abbiamo capito che forse poteva essere ampliato e diventare una storia. E allora con Massimo, l'altro cosceneggiatore, Giuseppe Loconsoli, ci siamo messi a scrivere ed è venuta fuori questa storia. E nel pensare ai personaggi, mentre li scrivevate, pensavate proprio a Martina, a Vincenzo Salemme, a Sandra Amiro? Devo dire la verità, Sandra no, Sandra è stata un'intuizione della produttrice di Valentina, di Giuseppe. È un'intuizione fantastica, geniale. Però nello scrivere gli altri personaggi sì, perché Vincenzo sì, perché volevamo un personaggio così. E Martina, io sono amico di Martina e quindi scrivendo questo personaggio ogni volta che mi vengono delle battute, e dicevo, cavoli ma questa, come la direbbe Martina? E poi mi è entrato dentro a questa cosa, poi la raccontavo, la raccontavo, diciamo, delle cose. Ho assistito diciamo all'inizio della stesura, dove anch'io sì, ci capivo poco, perché mi raccontava, mi raccontava, cambiava. Però devo dire che è la prima volta che mi succede, insomma, quindi lo ringrazio, perché quando mi ricapita, insomma, è qualcuno che scrive qualcosa per me. Di chi è Penelope in questo video? Penelope è una ragazza che ha pochi giorni dalle nozze, si trova coinvolta in questo viaggio rocambolesco e anche un po' pericoloso, con il fratello e anche ha stretto contatto con il suo ex storico, con cui è finita in maniera molto drammatica. Questo, tra crisi di nervi, liti, fuoribonde, eccetera, la obbligherà a guardarsi dentro e a guardare un po' la direzione in cui sta andando la sua vita. Il momento più divertente che avete vissuto sul set? Guarda, il momento più divertente c'è nei titoli di coda, uno dei momenti più divertenti. Uno, sì. Sì, uno, perché poi alla fine, fortunatamente è stata una commedia dove ci siamo trovati tutti molto bene tra di noi, per cui ogni scena era uno spunto per una risata tra di noi, vera. Però c'è stata una scena dove io non ci sono. Però eri presente sul set? Sì, ero presente sul set, dove nel supermercato ci sono seduti sulla panchina lei, Vincenzo e Martina, ma ad un certo punto non se ne usciva fuori. Sì, no, Sandra è veramente geniale, in più Vincenzo, in più, cioè, alla fine, quella scena era anche seria. E cercare di rimanere intimo, serio, eccetera, non si riusciva a smettere di ridere. Era anche tardi, tardanotte, un comico come Vincenzo, una straordinaria attrice come Sandra Milo, e questo è venuto pure un mix, che tutti, compreso Vincenzo, che l'ho incrociato altre volte, insomma, riesce sempre a rimanere molto serio, proprio perché fa il comico, e non ce l'ha fatta neanche lui, siamo proprio sbottati a ridere continuamente e non riuscivamo ad andare avanti. Però, insomma, a parte questo, credo che, spero che questa energia anche di divertimento, di improvvisazione, arrivi quando vedi il film, perché noi veramente ci siamo divertiti tantissimo. Parlando con il regista, diceva, visto che, insomma, è stato bello, anche lui ha confermato il bel clima che c'era sul set, chissà, magari, non si, ci sarebbe già un potenziale titolo, no? Prima di martedì, un prima di mercoledì, prima di giovedì... Andiamoci cauti! Prima di gennaio, prima di febbraio, ce n'abbiamo un sacco! Ma intanto già sta scrivendo, comunque, eh! Vedi! Io, tanto ormai, ho chi mi scrive, quindi sto a posto! Ma che sai come finisce le... Siamo a posto! Volete, dai? Beh, più che dare un appuntamento, è un obbligo, il 22, dal 22 settembre, al cinema, a vedere Prima di Lunedì, e basta! Poi, cioè, tornate a casa il giorno dopo, prima di lunedì, al cinema! Tornate, sì, sì, rivedetelo sempre! Esatto, passaparola alla grandissima!